Buongiorno a tutti, volevo oggi informarvi su quanto ho comunicato ieri sera in Consiglio Comunale a proposito del Ponte Vecchio. Siccome ho capito che stanno circolando informazioni non esatte, inappropriate e dico anche forse tendenziose, rispetto alla interpretazione di quanto ho comunicato ieri sera in Consiglio Comunale, voglio attraverso questo video fare alcune precisazioni in termini di delucidazione affinché tutti i cittadini siano esattamente e in modo trasparente informati sull'esatto stato dell'arte. Ora abbiamo appreso alcuni giorni fa dalla centrale unica di committenza di Novellara, che è la stazione che ci segue per gli appalti, che la ditta che ha vinto l'appalto sul Ponte Vecchio è sorvegliata da parte del Tribunale di Bologna che esattamente un anno fa ha nominato una sorta di commissario, in sostanza un commercialista, per affiancare l'azienda nella propria operatività. Quindi non significa questo che la ditta non può operare. Se così fosse stata non avrebbe nemmeno potuto partecipare alla gara che si è svolta all'inizio di agosto. Quindi, al fine di togliere qualsiasi incomprensione o falsa informazione, ci tengo a sottolineare che la ditta è nella piena operatività e quindi è autorizzata a muoversi sul mercato come meglio ritiene opportuno, fermo restando la sorveglianza che il Tribunale di Bologna ha istituito attraverso la nomina di un commercialista. Questo anno di sorveglianza scade esattamente il prossimo 6 di ottobre e sapremo ovviamente se la ditta, come noi ci auguriamo, è nella condizione di continuare tranquillamente la propria operatività. Questo elemento, lo sottolineo e preciso, non incide assolutamente sui tempi di intervento rispetto alla riqualificazione del ponte. Cosa diversa è che se invece la ditta fosse inibita alla operatività, non dobbiamo, e questo voglio essere molto chiaro, rifare la gara, ma assolutamente possiamo fare affidamento alla seconda ditta arrivata. Cosa che io non mi auguro perché le premesse che ci sono, le informazioni che abbiamo, sono di continuità da parte della ditta che ha vinto appunto l'appalto. Tant'è che in questi giorni, come ho sempre comunicato con i miei precedenti video e anche comunicati stampa, noi abbiamo chiesto alla ditta vincitrice la cosiddetta congruità dei prezzi. Perché l'abbiamo chiesto? Perché ovviamente trattando questo di un appalto al massimo ribasso, vogliamo avere una dichiarazione a tenere agli atti, che i prezzi che loro hanno formulato in sede di gara sono congrui e quindi sono in grado di mantenerli. E rispetto in particolare all'approvvigionamento delle materie prime, in particolare le barre di acciaio che andranno ad essere sostituite come supporto al ponte. Questa è la situazione e quindi ritengo di avere fatta comunicazione doverosa ieri sera in Consiglio Comunale affinché si sappia esattamente come stanno le cose. Non c'è nulla, assolutamente nulla da nascondere e non c'è nulla ovviamente di incongruo rispetto a qualsiasi normale procedimento di appalto. Vi ringrazio.